Nuova e interessante opportunità di formazione, corso gratuito per persone che hanno meno di 30 anni, non lavorano, possono partecipare sia disoccupati che inoccupati, che hanno terminato gli studi e hanno un'idea imprenditoriale, un sogno chiuso nel cassetto che non sanno come realizzare. L'ente di formazione COM2 organizza un percorso di alta formazione specialistica relativo alle nuove strategie per l'autoimprenditorialità e lo start-up di impresa. Il corso è completamente gratuito, si svolge online ed è offerto da COM2, ente di formazione negli ambiti della comunicazione aziendale e interpersonale, accreditato dalle regioni Lazio ed Emilia-Romagna, con sede sia a Roma che a Piacenza. L'ente di formazione COM2 offre corsi di formazione in numerosi campi come cultura, turismo, marketing, comunicazione, information and communication technology, spettacolo e audiovisivo. Nello specifico, ogni anno vengono organizzati percorsi di specializzazione in marketing del turismo territoriale, marketing 4.0 e green marketing, social media marketing aziendale, sceneggiatura e regia, videomontaggio, documentari, produzioni audiovisive per ragazzi e produzione esecutiva in ambito cinematografico. In tutti i settori la formazione è affidata a docenti esperti e di fama internazionale. Ti faccio alcuni nomi. Valerio Bergesio, Riccardo Rossi e Riccardo Milani per il settore audiovisivo. Sara Guida, Massimiliano Lenzi e Mario Fabbroni per la comunicazione. Simona Scarpati, Riccardo Pirazzoli e Pierluigi Sassi per l'ambito cultura ed eventi. Paolo Di Giannantonio, Mario Fabbroni e John Ware per il giornalismo. Vincenzo Monteleone, Luciano Massa e Letizia Palmisano per il marketing. Otello Cengi, Marco Barocci e Maglio Castagna per quanto riguarda il turismo. Oltre alla possibilità di entrare in contatto con questi e altri nomi prestigiosi, Com2 offre agli alunni che frequentano i loro corsi gratuiti l'opportunità di partecipare a stage sia in Emilia Romagna che nel Lazio. Presso aziende partner dei vari settori di interesse come audiovisivo, comunicazione, cultura, eventi, giornalismo ed editoria, marketing sociale e turismo. I prossimi corsi in partenza, oltre a quello sulle nuove strategie per l'autoimprenditorialità e lo startup di impresa, sono The Startup Marketing Academy Manager degli eventi e degli spettacoli dal vivo Web Designer Wordpress di livello 1 Nel sito Com2 trovi una sezione dedicata a tutti i corsi con i dettagli, i requisiti richiesti e le modalità di iscrizione. Ora vediamo insieme i contenuti del corso gratuito. Il percorso formativo, le nuove strategie per l'autoimprenditorialità e lo startup di impresa è interessante e molto pratico. Fornisce informazioni e strumenti per iniziare la propria attività. Cosa si impara in questo corso gratuito nel dettaglio? In questo corso si imparerà La gestione del business in ogni fase L'analisi dell'idea e l'ottimizzazione L'analisi dei competitor e del mercato di riferimento La costruzione della strategia comunicativa di marketing e networking E infine la preparazione del business plan La formazione sarà relativa anche alla normativa fiscale. Un'altra parte sarà invece dedicata a dove e come ottenere finanziamenti a tasso zero, aggevolato o addirittura a fondo perduto. Le informazioni date sono mirate a seconda del settore in cui si vuole aprire l'attività Ristorazione, culturale, automobilistico, sociale, tecnologico e tanti altri. Il corso gratuito di alta formazione è un'ottima opportunità anche da inserire all'interno del curriculum vitae. Sempre più organizzazioni e imprese cercano infatti esperti in start-up d'impresa. I docenti del corso sono esperti a livello nazionale in avviamento di start-up. Due di questi sono Francesco Marrone e Chiara Manicardi. L'inizio del corso gratuito di alta formazione relativo alle nuove strategie per l'autoimprenditorialità e lo start-up d'impresa è previsto per giovedì 26 maggio 2022. È possibile seguire questo corso in due modi. Il primo consiste in 5 lezioni alla settimana da lunedì al venerdì. In questo caso gli orari sono dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Si tratta di una full immersion e la durata prevista è di due settimane e mezzo. Il secondo modo consiste in due lezioni alla settimana che si terranno il martedì e il giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. E in questo caso la durata è di 7 settimane. All'interno del corso gratuito sono previste 60 ore di aula collettiva e 20 ore individuali di coaching e consulenza sull'idea di business dell'alunno. Alla fine delle lezioni viene rilasciato un attestato riconosciuto dall'AMPAL, l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro. Inoltre, grazie alla partecipazione al corso, è possibile fare richiesta per accedere ai finanziamenti di Selfie Employment o Resto al Sud per avviare la propria attività. Per iscriversi al corso è necessario compilare il form dedicato, indicando varie informazioni personali sulla situazione lavorativa o di studio e in quale delle due modalità si preferisce frequentare. Per qualsiasi ulteriore informazione si può contattare direttamente l'ente COV2. Cari fan di noi stranieri, spero che questa informazione sia stata utile. Condividetela anche con i vostri amici a cui potrebbe interessare. Vi consiglio anche di iscrivervi al nostro canale YouTube, sempre noi stranieri, in cui potete trovare video interessanti come la guida su come aprire un negozio e come vendere online, quello su come scaricare i certificati gratuitamente, quello su come fare la richiesta per cambiare residenza a Roma in sole 72 ore, la guida su come recuperare lo speed se hai cambiato numero, vi lasciamo tutti i link in descrizione. Grazie e alla prossima!